Allora abbiamo una guerra in casa, una guerra in casa nel senso di un derby, siamo contro i civil game all'italiana e io sto cercando il mio bersaglio anche se ho dei grossi dubbi, potrei tentare contro di lui con dei rossi gialli con dei rossi gialli, ci penso e vediamo la vedo grigissima, spero mi parta una bella combo perché questo è un 4.500 e contro 4.500 faccio oggettivamente fatica bene guarda quanti gialli che ho qua, ma porca miseria quanto ha di vita lei? 4.75 non la voglio caricare finché non ho caricato qualcuno dei miei perfetto perfetto Fenrir, è carico io tutti rossi vabbè, via oddio, mi ha fatto la bua no no, non accecarmi, non accecarmi, non accecarmi tutti me li ho accettati perché Grazul non era attiva speriamo che non manchi, ha mancato in pieno mi andrà via l'accecamento prima o poi o no? devi morire, non abbiamo scelta morta, fermi tutti fermi tutti mancato, mancato, perfetto ma anche tu prima o poi adesso parte mamma natale e io sono morta se tira su qualcuno vediamo se muore mamma natale ha la cura sul campo non facciamo finta che mamma natale ha la cura sul campo non ce l'ha perché deve morire quanto gli resta? 7.42 sono 8.16 no, non ce la faccio per cui andiamo con lui è ancora viva, eh? ok allora mi fa più male se non ho vita per cui noi adesso ci curiamo e giù a picchiare non è ancora viva per cui andiamo con noi e io sarei da una sorpresa ma non ci curiamo e io c'ero e io credo io non ci curiamo e lei ma adesso non ci c'ero carri, potrebbe essere una buona idea Telluria deve morire dovrebbe morire per i danni da fuoco la signora Telluria non togli manca per morire dopo muore ma che bello vediamo quindi di non far caricare nessuno grazie poffete Telluria ha fatto poffete quando Telluria se ne va che meraviglia che meraviglia ciao Fenrir che non ti curerai mai morto vai Joker è andato che fatica ragazzi altro giro altro regalo vediamo dovrebbe andare dovrebbe andare non devo far schillare la sua Ella se no oddio fra tutti non dovrei far schillare nessuno però visto che non devo far schillare Ella la centriamo subito allora attenzione perché io ho lui e se li blocco tutti e se li blocco tutti e l'è andata qui qui viola quanto ha vela 117 8 ce lo potrei fare quindi a questo punto se ne va Kingston e via viola in faccia a vela oh Kingston si è rianimato zuccolone facciamo così facciamo così Kingston dovrebbe morire ancora perfetto perfetto così mi piace adesso guarda muoviamo questo mi arriva anche un verde no quasi più o meno ecco l'utilità di telluria wings 0 e 2 questa è una formazione mi servirebbe un rigard se mettessi rigard mi servessi un dispeller che è un che è un un guaritore ehi la se parte vela sono morta anche se parte ossa beh allora noi ci proviamo e speriamo che perché ursa non è tosta da tirare giù noi abbiamo il blu però andiamo di fermarne un pochino qua i lati se si si magari mi entra un verde è entrato il verde perfetto se ne entra un altro sono ancora più contenta non sono ancora carica ma sto per far schigliare lei mi si deve caricare il mio melendor allora ho fatto fermare in mezzo così ricarico tutti e due vediamo eh sapevo io che andavo a perdere melendor non mi si carica un curatore sono morta morti tutti un macello niente questo è andato proprio male contro chi qualche speranza vedi bisogna tirare giù vela perché vela allora in questo caso dobbiamo tenere d'occhio la vita sul campo perché se stanno per curarsi me ne vado oddio mi sa che muoio prima è andato male l'attacco peccato non mi entrano i blu non mi entrano i blu no voglio fuggire prima che si curino per forza vediamo che scottermi sono rimaste adesso controlli vediamo 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 come va bene va che non ho niente sì no non mi servono i blu e i viola per attaccare stai tranquillo proprio non me ne faccio niente di blu e viola niente praticamente sono già morta è andata male anche questa mi stanno entrando a tessere certo adesso i blu dritti in faccia Artu sperando che Artu non mi secchi qualcuno come non ho detto è andata male anche questo vai su torno bravissimo si basta si basta però non lo so vediamo se per grazie esce no figurati morta peccato un piccolo intervallo per far vedere perché amo questa alleanza guardate tutti i pallini verdi che ci sono siamo praticamente tutti online quelli che non state vedendo online adesso è perché sono accorsi a mettere in carica il cellulare stupendo e qui si sta lavorando tutti insieme per fare il reset che bello proprio bello allora andiamo a fare gli ultimi due attacchi devo stare attenti ai verdi potrei portarmi un rosso in più e fermare al centro ma se parte Magni Magni me la provo così andiamo 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 per ora siamo in vantaggio e allora aspetto è in sbetto perché voglio fare così così che mi dà più fastidio atomos e telluria che mi riprendono tutti andiamo su atomos intanto morirà ecco quanti torni hai ancora due va bene va bene va bene lo riattiviamo prima che mi faccia lo scherzo e vediamo e lui è morto e io ho attivato telluria che dovrebbe schiantarsi contro boril non si è schiantata contro boril e allora mi si stava scaricando il telefono e non muore ma noi abbiamo pazienza vorrei non farla attivare di nuovo oppure si contro boril vediamo se ti attivo eccola qua e non l'abbiamo fatta neanche attivare benissimo qua ragazzi abbiamo io ho ancora un attacco da fare ne abbiamo 36 noi e 24 loro e abbiamo 800 punti di vantaggio bene bene niente ultimo tentativo la squadra è quella e speriamo una 3750 vediamo vediamo se riusciamo questa è già aperta e meno male che è già aperta che miseria mi caricare i rossi mi dà bravo sai carmino sì basta picchiarmi allora curatori o no andiamo su gli aderis vediamo di non stuzzicarli curatori però santo quanto gli manca la deus per morire 185 35 ci staremo anche vorrei caricarmi pure wukong allora facciamo così intanto che lui è carico e vediamo se si carica wukong ok ok ormai è carica quindi mi tocca fare così mh palle curatori devo curare se non mi si tira se non mi si tira su sabina vediamo cosa scende scende niente scende ragazzi devo curarmi io wukong non so in che lingua dirtelo che mi devo curare non so in questo punto preferisco fare così non mi uccidere grazie andiamo e allora ci diamo una calmata allora cominciamo a uccidere vivica perché quando se ne viene fuori poi il mio gormek si è preso il mio gormek ok ok adesso con calma Zeros andiamo segui i consigli di Zeros c'è il mio topolino che sta attaccando negli zerini in questo momento c'è Zeros negli zerini è andato anche lui via è civil game la vedo grigia grigia per voi noi siamo 5.400 loro 4.300 noi abbiamo ancora 21 attacchi loro ne hanno 19 quindi direi che direi che non gli è andata granché granché bene perfetto ragazzi è stato un piacere ciao ciao